Michele Gandolfo, promotore della lista Un'altra Marsala qui alla conferenza stampa di Villa Favorita per appoggiare i suoi candidati e comunque in appoggio al candidato sindaco Massimo Grillo. Perché lo appoggi? Perché lo appoggi? Innanzitutto dobbiamo fare chiarezza. Noi cinque anni fa eravamo con Digirolamo e abbiamo appoggiato con forza la candidatura di Digirolamo. Poi in corso d'opera è venuta meno la fiducia da parte nostra verso il sindaco Digirolamo. Abbiamo riterato l'assessore e abbiamo preparato una mozione di sfiducia che è stata firmata da sei consiglieri comunali e quindi conseguentemente oggi siamo dall'altra parte della barricata e quindi con Massimo Grillo un sindaco sicuramente più pratico, più concreto rispetto a Digirolamo. Dalla teoria passeremo sicuramente alla pratica e sarà un sindaco vicino alla gente e noi saremo vicino alla gente e raccoglieremo le istanze della città. La lamentela maggiore dei cittadini è stata questa, la distanza. Noi dobbiamo aprire le porte del comune. Mi ricordo io 30 anni fa quando c'erano socialisti al potere il palazzo pululava di cittadini, non c'era nessun filtro e oggi c'è un accesso magari di burocrazia, accesso di filtro.